allo studio, riuscendo ad ottenere eccellenti risultati in tutte le discipline. Evidenzia costanza e partecipazione a tutte le lezioni. In possesso di una particolare maturità personale, è sempre disponibile nei confronti dei compagni. Con generosità e infinita pazienza, ha dedicato il suo tempo aiutando i compagni più deboli in difficoltà. Buono di carattere, ma soprattutto molto sereno, pur riservato e discreto. E' elemento stabilizzante all'interno della classe, in cui riesce a costituire punto di riferimento, soprattutto nelle situazioni di maggiore attenzione. Lo stemperatore folle. Con l'augurio che questo primo successo scolastico possa essere solo la prima delle grandi gioie che la vita gli potrà regalare. Grazie. Grazie.